Ciao a tutti, ecco mi trovata a casa finalmente della montagna Sì, sono sparita, lo so E la prima con cui mi devo scusare, prima su tutti, è Valentina Scusa, Vale, non è che non avessi registrato il tuo video, cioè il video di aggiornamento peso L'ho registrato in realtà all'1, quindi ero già in ritardo da lì Però, cosa è successo? Ero tutta tronfia del fatto che dopo Natale e dopo Capodanno mi fossi pesata all'1 mattina Mattina, quando mi sono svegliata E non avevo preso tanto peso, cioè alla fine avevo preso quasi un chino, ma neanche un chino intero Tipo 800 grammi avevo preso E quindi ero tutta trionfante, ero tutta contenta E pensavo di essere uscita vittoriosa dalle vacanze estive Se sentite il rumore di sottofondo è Marvel qui che mangia di fianco a me Perlomeno si fa i fatti suoi E ero trionfante, ero contentissima del fatto di essere sopravvissuta alle feste Con soltanto 800 grammi di differenza in più Subito dopo aver finito di esultare, cosa è successo? Che sono stata rapita Dovete sapere che io in montagna non è che ci faccia molto Nel senso, bello, bello, bello Il posto era splendido Soltanto che io non scio Non scio perché mi hanno fatto venire un trauma anni fa Perché io non sapevo sciare La mia famiglia è proprio una famiglia da mare E non da montagna E non ero mai andata a sciare E i miei amici mi hanno detto Sempre gli stessi amici tra l'altro Mi hanno detto Ma sì, ti insegniamo noi a sciare Mi hanno portato su una pista nera Io a un certo punto ho cominciato a singhiozzare piangendo Hanno dovuto venirmi a prendere Loro chiaramente erano già tutti scesi Io mi sono tolta gli sci Tipo sul pendio E da lì ho deciso di evitare di sciare Anche perché più che altro io rotolo giù Più che sciare E non è tanto divertente Ce l'avevo malissimo Quindi in montagna non è che ci faccia granché E quindi niente Mi hanno rapita Mi hanno portata a casa del mio fidanzato Che ha una casa a Scopello In Balsesia Tra l'altro un posto splendido E loro avevano intenzione di sciare E io sarei rimasta a casa A gestire la faccenda del gruppo A studiare un po' A farmi fatti mei essenzialmente A riposarmi E alla fine era questo il piano Soltanto che cosa è successo Io mi ero procurata una chiavetta Per l'occasione Perché lì chiaramente non c'è Almeno a casa del mio ragazzo Non c'è il wireless come a casa mia Quindi mi ero procurata Una chiavetta della Vodafone Maledetta Convinta che sarebbe servita E mi avrebbe permesso Di caricare i video che avevo in arretrato Cioè quelli che ho caricato ieri E l'aggiornamento peso Gli auguri per il buon anno E quindi io tutta contenta Mi sono presa la chiavetta Ma la chiavetta chiaramente non funzionava in montagna Io non so perché Ma io credo che non funzioni neanche a Milano Cioè secondo me ha proprio un tallo di suo Non lo so Voi ne avete mai provate? Comunque non funziona Va lentissima una roba Tipo per aprire una mail Io ci mettevo Dieci minuti E non avevo mai la sicurezza Che poi la risposta arrivasse Cioè io facevo invio E speravo che arrivasse la mail Perché ad esempio Non la visualizzavo fra quelle inviate Non so per quale motivo E quindi Io credo di aver risposto a tutti quanti Però spero di aver Cioè che vi siano arrivate le mie risposte Vale? Ti è arrivata la mia risposta Vero? E detto questo Torno dalla montagna In montagna fra l'altro loro Non hanno neanche potuto sciare tutti i giorni Perché Il tempo non lo permetteva C'era molto vento E quindi Hanno chiuso le piste Tutto un casino Quindi In fin dei conti Loro hanno sciato soltanto un giorno Io sono stata soltanto un giorno Ad aspettare la casa E quindi Alla fine Io ho mangiato tutto il tempo Cioè Alla fine è successo che Una sera siamo andati A prendere La cioccolata calda E alla fine Non abbiamo neanche preso La cioccolata calda Abbiamo preso Uno yogurt Con dentro la nutella Una roba porchissima Con sopra i plasmo Sbriciolati E poi Un'altra sera Siamo andati a mangiare La bagna cauda E poi abbiamo mangiato La polenta Il cinghiale Tutti gli animali possibili Il capriolo Ah E' successo una cosa incredibile Poi fra l'altro Quella sera Abbiamo preso tutti quanti il dolce Anche io chiaramente Ho preso il dolce E fra i dolci C'era focaccia Alla nutella Io pensavo di portare Sero un trancetto così Una fettina di focaccia Con dentro la nutella Cioè Mi è arrivata una pizza intera Una pizza intera Tutta piena di nutella Stavamo impazzendo E chiaramente Tutti mi prendevano in giro Perché io Il pomeriggio Avevo appena Registrato L'aggiornamento peso In cui dicevo Sì Non ho preso Non ho preso Praticamente niente Quindi in pratica Questi cinque giorni Hanno decretato la fine Della mia esultanza E la sconfitta totale Nei confronti delle feste natalizie Tornata a casa Mi sono immediatamente pesata E chiaramente Mi sono spogliata e pesata E avevo preso due chilometri in più Stavattina mi sono ripesata E ho preso 500 grammi Quindi sono due chili in più Però ho fatto un piano Vale Tu nel tuo video Aggiornamento Avevi detto che Dopo le feste Avevi due o tre giorni Di dieta proteica Quindi Con pochi carboidrati Immagino E io Ispirata Dalla tua Dieta proteica Di due o tre giorni Ho deciso di seguirla Anche io Quindi Oggi È il primo giorno Di dieta proteica Della mia vita Il primo giorno Senza pasta E carboidrati E pane Infatti sto già impazzendo E non siamo neanche Alle quattro di pomeriggio E speriamo Che funzioni Ho pensato Che Io ho Il dietologo Il sedici Quindi Entro il sedici Onde evitare Punizioni corporali E roba così Da parte del mio dietologo Che voi avete capito Essere una persona Così carina Così carissima No È una brava persona Che c'entra Però è sederissimo Quindi sinceramente Mi incute Abbastanza timore Andare lì Con due chili e mezzo in più Rispetto all'altra volta E quindi ho deciso di Seguire In qualche modo Le istruzioni Di una dieta proteica La prima che mi è venuta in mente È la dieta Dukan Che tra l'altro Con coincidenza Io ho il libro E quindi Ho incominciato a leggere Il primo libro Della dieta Dukan Secondo me è da pazzoi Vi dico la verità Cioè io sinceramente Quattro giorni Mangiando Cioè la colazione Come si fa a mangiare Solo proteine Lui dice di mangiare le uova Ma che schifo Quindi insomma Ho deciso di fare Una via di mezzo Mi leggo Il libro Della dieta Dukan Così dall'altro Se vi interessa Vi faccio anche un video In cui vi racconto Esattamente di che cosa si tratta Perché io non l'avevo ancora capito E poi Che cosa volevo dirvi Dopo i primi Quattro giorni Di dieta semi proteica Cioè la colazione La faccio comunque Con i cereali Riprenderò La mia dieta La mia dieta normale Quindi Rintegrerò I fai inquidrati E sarà strettissima Fino a marzo Fino a marzo Se riesco a resistere Fino a marzo Senza sgarrare Ho già trovato Un premio Che è perfetto Che è una cosa Che io voglio da tantissimo Dovete sapere Che mia sorella va A Londra E ogni volta Che mia sorella va a Londra Passa dall'aeroporto Generalmente Lei va a Itro Itro E bella la pronuncia E ogni volta Che lei va a Londra Io le faccio fare Cioè faccio Un ordine Alla Mac Perché Amore sì All'aeroporto di Londra Guardate Marvel Come è diventata grossa 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 Sì Mangia di certo Tocchini Dicevo Ogni volta che mia sorella va a Londra Passa dall'aeroporto Di Itro E O comunque Da un aeroporto londinese E lì c'è il Mac C'è la Mac Però senza tasse Tax free E quindi è una figata Ogni volta io mi faccio comprare Un sacco di roba E la uso come premi E E anche questa volta Mi sono già prefissata A un premio Di quelli mega galattici Io ho tutti i oberti Mac Che sono praticamente Nelle refill Ma non ho No Marvel Ai Ma non ho Il contenitore Cioè la palette Per In cui mettere le refill Pensavo di comprarne una Tipo dai cinesi Però alla fine Non l'ho trovata E quindi Mi faccio comprare La palette Vuota E poi Un paio di ombrettini Dentro E magari un pannello E questo è il mega premio Di marzo E ho deciso di Continuare la dieta Non stop Fino a marzo Ovviamente con il giorno di pausa Sapete che io ho un giorno libero La settimana Quello della pizza O del sushi Perché a marzo C'è il mio compleanno E quindi Il 10 marzo Inizio marzo E quindi Posso resistere Cioè ce la posso fare A resistere Tre mesi Neanche due mesi Due mesi Sono il 10 gennaio Febbraio Marzo Due mesi Senza sgarrare Dopo Che Il problema è questo Se sgarrerò Io quella palette La metterò in un cassetto E non la utilizzerò mai Punizione Cioè La regalo La dovrò regalare A qualcun altro E non la potrò mai più comprare Dovrò accontentarmi Di quella dei cinesi E Questo mi ha abbastanza di stimolo Quindi Riassumendo Ho intenzione di fare Questi 4 giorni di dieta Super forte Super proteica Super restrittiva In questi 4 giorni Se vi interessa Farò dei micro aggiornamenti Tipo In questo momento Sono le 4 del pomeriggio Ho una fame boia E mi mangerei Un quintale di carboidrati Vi farò vedere Più o meno Quello che mangio Sarà un video Molto breve Cioè Proprio 10 secondi alla volta Che ne so Proprio Riassuntivi Della mia giornata E Vi farò sapere Che cosa ne penso Insomma Se è fattibile o no E Non ne sarà Proprio la dieta Dukan Ve l'ho detto Perché secondo me È proprio da fuori testa Tipo la colazione Io non la concepisco Senza Zucchero Soprattutto E senza Senza Carboidrati Senza cereali Cioè Non esiste Che mi mangio Le uova Le uova Me le mangio Soltanto In vacanza Quando impazzisco E il mio regime Elementare Va a farsi Benedire E allora Sì Le uova Alla colazione Le concepisco Anche perché Le colazioni Delle alberghi Sono sempre Una figata Mangio uova Vabbè Con tutto E Però Siccome Non sono In albergo Preferisco Mangiare Cereali E Vi farò sapere Come Come va Vale Ti chiedo Ancora Scusa Per Averti Fatto Aspettare Tanto Per questo Aggiornamento E che fra l'altro È un po' Incasinato Con Marvel Sotto Che fa casino E tutto quanto Quindi Scusami E So che Domani Hai Il dietologo Quindi Se Ti va Puoi farci Sapere Come è andata Anche perché Sono abbastanza Curiosa Sei stata bravissima Durante le feste Quando hai detto Fatemi pure Lola Io ero lì da sola Che facevo Lola Io e Marvel O anche lei Ha preso Due chili Però Certo che però Lei è un cucciolo Quindi è totalmente Nella vedia Pesa 4 kg Ed è una cicciona Ve la faccio vedere Chiaramente mangia Marvel ogni volta Che faccio un video È di fianco a me Che mangia Perché è l'unico modo Per non farla Guardate che bella La scarpina di Marvel Tutta ciucciata Mori È diventato un cane grasso Ogni volta Ti è mangia È diventato un cane grande E basta Mi metto questo Perché almeno non ho il sole Negli occhi Vi saluto Vi mando un bacione Vale Facci sapere come è andata E giuro Da ora in poi Ragazzi Basta Non mi è concesso Alcuno sgarro Perché mi sono rotta Le scatole E basta Devo perdere Sti bedellati chili E ci vediamo Questi giorni Con i micro aggiornamenti Ciao